Ciao a tutti e sono Double e questo è il primo gameplay che faccio su Need for Speed Most Wanted Ringrazio soprattutto i miei 30 iscritti e come detto farò molti gameplay, tutorial e molto altro quindi non preoccupatevi che i video arriveranno Allora torniamo a Need for Speed Questo è un gioco molto bello appena uscito cioè non appena uscito, diciamo l'ultimo Need for Speed e l'ho acquistato perché mi è sembrato molto interessante Allora questa è la mia auto che ho trovato mi sto al 5% quindi non ho fatto un granché Iniziamo e se ne migliorate già bisogna usare la 될ba ma non ho scelto no ma non ho fatto una cosa perché si è iniziale è abbastanza in battaglia quindi ho avuto Altra impostazioni audio 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 musica al 5% nonostante fosse al 5% ho trovato molti punti di scambio ovvero i punti di scambio sono quando tu trovi delle auto e qui diciamo le auto non si comprano ma ci sono dei punti di scambio i quali ti permettono di cambiare auto io ne ho trovati 5 e ho trovato delle macchine bellissime come la Ford Mustang, la Ford GT, la Porsche 911 e molti altri due più costanissimi che ci sono in realtà è che allora una cosa che mi sa di questo gioco non so come fare il problema, non so veramente dove è stato un problema, poveri mio figlio. non 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 Se si ripaga l'auto, io voglio fare un'altra volta. Allora, arriviamo alla seconda fase. Perché? Dimmi perché? Maldita. L'idea! Dio! L'idea! Fredditci... Ma il ca... Emanuele! Non so proprio tempo. Anche a me darmi davanti a me guarda qui, perché è io, prima, che si giochi tirando la vocella frappella, perché non è così, 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 non è così. andiamo sulla mappa allora Z punti di scambio ancora Z Z, gare parola di gare sfida velocità gara spedetta ecco imposta destinazione ok andiamo con una strata sta iniziando e che che non 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 è uguale alla mia solo che cambierà e non è un becco solo perchè è giustante non la perdono e cambia la mano e stanno la visita andiamo sulla mappa allora qual era questo? l'imposta di estimazione il nostro corso gratuito è un'altra e non è un'altra e non è un'altra Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ok, iniziamo la gara. Sono all'undicesimo posto, quindi ancora sono l'ultimo nella classifica. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.